Il diciassettesimo turno del campionato di Serie D, l'ultimo in infrasettimanale per questa prima parte di campionato, sorride alla vastese che bate il Castelfidardo per 2-1 con un secondo tempo tutto cuore. La squadra di Montani si presenta all'appuntamento con il fanalino di coda Castelfidardo schierando i suoi con il 4-3-3 affidando la mediana al nuovo arrivato Cappellupo ed il reparto avanzato a Capitan Fiore, Leonetti e Sciba. 4-3-1-2 per Vagnoni, mister dei marchigiani con l'ex notaresco di Lollo in mezzo al campo ad agire da metronomo con Calabrese a rifinire per la coppia. Arrivi Petrarulo, primi dieci minuti di studio ma al decimo ci prova Leonetti, buona la serpentina del numero 11 di casa ma il suo tiro è parato da barbato. Al ventiduesimo ancora vastese con Fiore, il fantasista domestica una buona palla in area di rigore ma il suo tiro è deviato in corner dalla difesa a Fidardense. Un minuto dopo si fa vedere anche la squadra marchigiana con Calabrese che riceve da Rivi ma il suo tiro è parato da Selva. Al ventisettesimo ancora Castelfidardo che pareggia le occasioni mancate con Rivi che strozza troppo il suo tiro incrociato verso la porta. Alla mezz'ora la vastese ha la doppia occasione per portarsi in vantaggio. La prima con Palestini ma il suo tiro dal limite chiama la super risposta in angolo barbato. Un minuto più tardi è Fiore che dalla sua mattonella mette fuori. Ma al trentasettesimo come un fulmine a ciel sereno arriva il gol del Castelfidardo con Calabresi che da 30 metri trova l'erogol di giornata con la sfera che bacia il palo e si inzacca alle spalle del numero 1 di casa. La squadra di Montagna accena una timida reazione con Schiba al quarantatresimo ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa a ospite. Ripresa che parte subito con un cambio e Stivaletta a fare il suo ingresso in campo al posto di D'Alessandro. La vastese stenta e va avanti a sprazzi così come all'undicesimo quando dagli sviluppi di un calcio d'angolo è Schiba ad avere la sfera del pareggio. Ma il suo colpo di testa dalla distanza ravvicinata è centrale per impensierire barbato. Ma lo sforzo dei biancorossi viene premiato al diciassettesimo quando proprio il neo entrato Stivaletta di testa su angolo di capellupo riesce con l'aiuto della traversa a battere il bravo barbato. Il Castelfidardo cale il ritmo e la vastese ne approfitta al ventiduesimo quando ribalta il parziale con Leonetti. Ottimo il dai vai con Schiba e il numero 11 di casa è bravo a infilare il numero 1 ospite. Passano due minuti ed è il neo arrivato capellupo a dare l'illusione del gol con una punizione che incoccia il sostegno della porta difesa da barbato. Il Castelfidardo accusa il colpo ma al trentunesimo si fa rivedere dalle parti di Selva ma il tiro di Massi è debole per impensierire Selva. Vagnoli non ci sta visto l'ottimo primo tempo e tenta la carta Giovagnoli in attacco. Così da una sasponda al quarantatresimo e Calabrese a concludere alle stelle. Finisce così dopo quattro minuti di recupero la sfida dell'Aragone. Tra quattro giorni sarà di nuovo campionato con la sfida al De Marsi tra Avezzano e Vastese. Presidente Bolani una Vastese da due volte, un secondo tempo che è riuscito a dare una soddisfazione ai propri tifosi. Però abbiamo visto nel primo tempo questo battibecco, dai tifosi si chiede qualcosa in più. Sicuramente si aspettavano qualcosa in più da quest'anno. Noi, come ho detto dall'inizio, stiamo mettendo la faccia, c'è un progetto, ci stiamo veramente mettendo l'anima. Non è che arrivi in due o tre anni e risolvi i tanti problemi che c'erano dietro dei pregressi. Ci sono tante cose da fare, stiamo facendo il possibile, però i risultati aiutano. Io dico soltanto ai tifosi di stare vicino a questa squadra, che abbiamo fatto già un cambiamento a dicembre. Non è facile, oggi abbiamo lottato con il cuore e se giochiamo così, qualche bella soddisfazione ce la troviamo. Ci vuole pazienza come tutte le cose. Guardiamo un po' a lungo, domenica ci sarà il derby con l'Avezzano. Una sfida tra due squadre un po' amareggiate da questa prima parte di campionato. Che sfida sarà quella? È una sfida come tutte le domeniche. Sappiamo che è un cambiamento difficile, sappiamo che l'Avezzano sta attraversando un buon periodo. È partito come in noi per fare un buon campionato. Il calcio è questo, purtroppo non c'è la certezza di fare bene, nonostante abbiamo fatto il massimo con tutti i punti messi sulle ia. Abbiamo fatto qualche passaggio sbagliato, si sbaglia, si imbocca le maniche e siamo qua a fare il bene per la vastese. Il primo quarto d'ora del secondo tempo ci avevamo raccomandati di essere concentrati, di partire forte. Invece senza motivo ci siamo abbassati. Il primo tempo invece siamo stati sempre alti perché la vastesa dei giocatori, se ti riporti negli ultimi 16 metri ti fanno male. Abbiamo concesso sempre l'uno contro uno a 16 metri alla porta, abbiamo concesso poi di conseguenza tanti calcio d'angoli. È una squadra anche strutturata fisicamente, però non è tanto il quarto del secondo tempo, ma noi il primo tempo, lasciamolo dire, abbiamo sbagliato due o tre gol clamorosi, abbiamo sbagliato sempre la scelta. Venire qui e pensare di gestire un solo gol è impossibile. Invece forse abbiamo pensato di gestire l'1-0 con una squadra così forte davanti. È una scelta sbagliata, ma noi abbiamo parlato di rimanere alti, di fare la stessa partita del primo tempo. Non è stato un fatto fisico perché il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, li abbiamo messi là per cercare di recuperare. Quindi è stato un fatto mentale. Non riusciamo a gestire mentalmente la partita per tutti i 90 minuti.